cercavo una bomba trovato le non dirlo troppo forte la bomba così forte o mio de questa bomba mi va di traverso il caffè tutto per bene ragazzi nuove bombe di mercato e 5 oggi bella a tutti ciao allora sì siamo qui finalmente tornati episodio delle 18 vi ricordo che tranne ormai non si sa il giovedì e il venerdì in teoria ma anche il mercoledì ragazzi ormai ogni tanto quando ci sono gli episodi xxl usciranno usciranno ragazzi alle 14 30 oggi ce n'erano pochi quindi non esce l'episodio xxl ma neanche xl ragazzi oggi episodio xs con 5 bombe allora inizia ma cinque bombe non cinque bombe di rugani che va al cagliari no cinque bombe serie ragazzi iniziamo da ziec subito col botto napoli ragazzi si è che napoli si sta parlando molto perché quest'anno è innegabile ragazzi dire che la campagna acquisti al cese a mio parere per alcuni è stata fallimentare perché oggettivamente timo verner ha fatto una stagione fallimentare kai havert ci si aspettava di più forse è l'unico che si salva gli unici che si salvano anzi e tiago silva che anche lui mentre invece quello che si salva anche con 8 7 8 e mezzo di voto ragazzi ci vuol che ha fatto una grande stagione ma per il resto ragazzi niente di che e ragazzi si e ci potrebbe partire verso il napoli su richiesta ragazzi lucianone spalletti me ne vado ragazzi se succede brescia vai questa è la peggiore tra virgolette ragazzi brescia che non mi ricordo che avessero in panchina quest'anno inizialmente mi sa fabio grosso poi hanno cambiato allenatore ragazzi mi sa che sono andati fuori no no hanno fatto i play off ma ragazze hanno fatto schifo uscendo subito non mi ricordo con chi ragazzi ormai manco solo ufficialità la nuovo il nuovo allenatore a squadra dicellino e filippo inzali sicuramente ragazzi voglio subito ritornare in serie a per non fare una brutta decaduta come era successo negli ultimi anni visto che l'anno prima mi sembra che erano arrivati al 14esimo posto l'anno dopo primi dominando allora ragazzi queste sono due bombe della roma finisius e lori iuris ragazzi si vuole portare due pezzi del tottenham murigno ragazzi vinisius che quest'anno era al tottenham in prestito dal benfica ma ragazzi aveva fatto ha fatto vedere veramente grandi cose con il tottenham forse lo spazio non è stato tantissimo però ha fatto vedere mentre invece ragazzi iuri lo sappiamo una sicurezza per meteo portivi anche con 10 milioni ragazzi staremo a vedere ma se succede ragazzi veramente assurdo quello di vinisius invece ragazzi ci vedo molto bene con la roma non so perché chiudiamo ragazzi con vlaovic vlaovic si aspresta a diventare un tormentone estivo perché ragazzi dopo questa stagione a mio parere potrebbe fare tranquillamente affine i piontech allora si è parlato molto di roma e milan però ragazzi la juventus sembra quella che sta spuntando però a richiesta ragazzi è veramente alta da parte di rocco commisso se deve vendere un suo giocatore soprattutto ai rivali del di sempre dello juventus se li fa pagare forse anche un po troppo ragazzi 60 70 milioni per la juve se ha parlato di 50 per il milan e ragazzi 60 70 veramente sono tantissimi in ogni caso ragazzi per oggi gli appuntamenti in teoria finiscono qui se finiscono qua ragazzi noi ci vediamo ovviamente domani alle sette del mattino color shorts in ogni caso noi ci vediamo bella